E vogliamo vederlo assieme appunto, vogliamo riflettere prima di andare avanti sulla condizione post grazia, cioè su quello che avviene secondo quella professia meravigliosa in cui questo è il nuovo patto che farò con loro, ricordate ieri leggevamo in Geremia, scriverò le mie leggi nel loro intimo e allora non ci sarà più bisogno di qualcuno che insegna al suo fratello dicendo conosci il Signore perché tutti dal più piccolo al più grande mi conosceranno e poi dice io cancellerò, mi dimenticherò dei loro peccati. Si sta parlando proprio precisamente dell'opera salvifica svolta da Gesù e che dà un tipo di rapporto diverso e che dobbiamo comprendere bene per poter capire quali possono essere le relazioni non solo nell'ambito familiare ma nell'ambito dei gruppi. E allora, breve sintesi, in considerazione della triplice natura umana, cioè l'intero essere vostro, dirà Paolo in Prima Testanoicesi 5.23, spirito, anima e corpo sia conservato irreprensibile. L'Apostolo Paolo, in una maniera particolare, ci fa comprendere questa verità così trascurata, perché non stiamo qui a dire le varie teorie filosofiche, ma al massimo si è arrivato a pensare che l'uomo è anima e spirito, o anima e corpo, e si è confuso spesso l'anima con lo spirito, ma l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci rivela questa meravigliosa realtà dell'uomo come una triplice natura, corpo, anima nel senso di psiche e spirito. Tant'è vero che l'uomo creato a immagini di Dio è creato a immagini di Dio non nel senso fisico, ma nel senso spirituale. Abbiamo uno spirito, abbiamo una natura spirituale. Sappiamo tutti, e questo l'abbiamo sottolineato in questi giorni, che la nuova nascita, cioè questo processo di rinascita, di redenzione, di salvezza, come lo volete chiamare, non ha importanza, avviene nello spirito umano, attraverso lo Spirito Santo che ci partorisce. Vogliamo leggere un verso, tanto per, questo è un verso conosciutissimo, ma lo leggiamo sempre, perché la parola di Dio, letta, espresta, produce sempre più fede, perché la fede si ha per mezzo dell'udire, la predicazione della parola di Dio, nel capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, dice proprio in questa maniera, verso 13, verso 11, parlando di Gesù, dice che è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli, cioè, ecco, chiarifica cosa significa averlo ricevuto, e dice infatti a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Guardate che è espressivo questa scrittura, non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo. Non possiamo approfondire questi tre aspetti, perché già prenderemo un sacco di tempo, ma come a dire, qua sta sottolineando lo Spirito Santo, questo fatto che figli di Dio si può nascere solamente dallo Spirito. Non c'è una ereditarietà, non c'è un gene particolare che poi, avendolo i tuoi genitori, lo stesso gene si trasmette per ereditarietà e caratterizza poi la tua nascita spirituale. Non ci sono sistemi umani, non ci sono tecniche umane, ma lo Spirito Santo è l'unico che ci può partorire, che ci può innestare la vita di Dio dentro, che può mettere in noi veramente la sua realtà, che può farci rinascere. Quindi, quelli che hanno ricevuto Gesù sono nati da Dio. Cioè, c'è una nascita naturale per la quale veniamo al mondo, ma c'è una nascita sovrannaturale per la quale entriamo nella dimensione dello Spirito e il nostro Spirito, che era morto a causa del peccato, viene rigenerato, viene rivitalizzato. E allora, questa nuova nascita avviene nello Spirito, è attraverso lo Spirito Santo che ci partorisce, ed è istantanea. Chi è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Cioè, non è una nascita progressiva in cui noi ci trasformiamo da figli del diavolo a figli di Dio. Come dire, io sono ancora al 20% figlio del diavolo e al 80% figlio di Dio. No! La nostra nuova nascita è un fenomeno istantaneo, nel senso che questo rinnovamento, questa guarigione, questo cambiamento avviene nel nostro Spirito. È chiaro che non sarà istantanea la nostra santificazione, non sarà istantanea la nostra guarigione interiore, non sarà istantanea il nostro rinnovamento della mente, sono tutti dei sinonimi in fondo, ma è istantanea la nostra nascita spirituale. Cioè, come fu istantanea per il ladrone sulla croce. In quel momento lui riconobbe Gesù, è istantaneamente. Ed è paradossale, dicevo l'altro ieri a qualcuno, parlando, che proprio Gesù abbia detto, oggi sarai con me in paradiso, non a un uomo pio, ma a un ladrone. Cioè, questo veramente ci sciocca. L'unica persona a cui è stato detto in maniera chiara, oggi sarai con me in paradiso. E questo senza che il ladrone aveva avuto ancora il tempo di rinnovare la sua mente, di fare qualche cosa, di cambiare atteggiamenti. Aveva solamente riconosciuto che Gesù stava morendo da agnello purissimo, innocente, e quindi era stato salvato. Allora, dicevo, questa rinascita è istantanea. Se volete segnare il riferimento del versetto è in seconda Corinzi. Leggiamo perché bene, così anche io stesso mi ricordo i versetti. Molto bello poterli andare a prendere, perché poi quando ci servono non li troviamo mai. Allora prendiamolo un attimo, lo leggiamo assieme. 5.17 Dice in maniera precisa, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Quindi non dice sarà, forse, chissà. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ma, stiamo attenti, qualcuno vorrebbe, non capendo questa differenza che c'è tra lo spirito e l'anima, pensare che se uno è in Cristo non ha più problemi, come a dire ormai è perfetto. E questo è pericoloso, perché aiuterebbe tante persone che già per il loro atteggiamento reprimono i loro problemi, non li vogliono vedere, a non vederli ancora di più, perché dice ormai sono una nuova creatura, non ho più nessun problema, non ho nessuna difficoltà e poi andiamo a cadere nelle fosse senza che ce ne rendiamo conto e continuiamo a dire che non abbiamo nessun problema. Allora questa opera meravigliosa è un'opera che avviene nel nostro spirito. Il nostro spirito è made in cielo, in heaven. Cioè fabbricato direttamente da Dio, dal cielo. Mi dispiace per te, ma non ci puoi trovare niente di scadente, niente di corruttibile, niente di deleterio, niente di brutto. Ogni donazione che viene dal padre degli astri, presso cui non c'è ombra di rivolgimento, è una donazione buona. Buona, dirà Giacomo. Non ci sono cose brutte in quello che Dio ci ha dato. Questa nuova creatura, questa nuova identità che Dio ci ha donato è perfetta. Però non avviene similmente, questo lo abbiamo sempre compreso, per la nostra mente, la quale, a parte un breve periodo di apparente iniziale cambiamento, ecco, magari all'inizio quando c'è questa intuizione forte, questa percezione del contatto con Dio, sembra che la nostra mente vada così di lato che sembra scomparsa, sembra che non abbiamo più problemi, si sembra di navigare proprio a filo dell'aria, a rasoterra, di non vedere più le difficoltà. Però poi, dopo un breve periodo, la nostra mente riemerge tale e quale, come era prima, tale e quale. Quindi non scoraggiatevi, non illudetevi e non vi deprimete. Se dopo una conversione reale, vera, perché ci sono tante teorie purtroppo che ignorando questo cominciano a dire, ah, allora non è possibile, allora può essere che non hai avuto una vera conversione, allora di nuovo, ti devi convertire di nuovo. Allora ogni giorno, vero è che ogni giorno abbiamo bisogno di rinnovarci, ma questo è un processo mentale, ma la conversione non può essere ogni giorno, come a dire, se no sarebbe come uno che deve costruire una casa, mette un fondamento, poi dice, no, forse il fondamento non è giusto, aspetta che lo rilevo e lo rimetto un altro. No, il fondamento è Cristo e se tu hai detto sì, questo fondamento rimane in te, questa opera nuova rimane nel tuo cuore, però poi vada bene come ci costruisci sopra, perché ci puoi costruire sopra con fieno, paglia, ma ci puoi costruire con oro, argento, pietre preziosa. Allora lì è importante capire come costruire sopra, c'è come edificare, poi come fare la nostra parte sul fondamento che Cristo ci ha donato, la sua grazia, la sua opera, questa nuova natura, un nuovo te stesso meraviglioso, una nuova Yvonne, un nuovo Renzo, una nuova Lidia, meravigliose, meravigliose. Questo è il fondamento, questo è il dono di Dio, ma tutto questo in una mente che è tutt'altro che meravigliosa, perché si è abituata a vivere secondo la logica di questo mondo, ha integrato certi comportamenti, voi sapete, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato all'inizio delle armi, abbiamo imparato a risentire, abbiamo imparato ad essere gelosi, abbiamo imparato ad essere amareggiati, abbiamo imparato tutte quelle che sono le buone realtà del nostro vivere, del nostro secolo e le abbiamo incamerate, chi più chi meno, chi è a livello più cosciente, chi è a livello inconscio e quindi magari ne paga le conseguenze a livello somatico, ma tutti abbiamo incamerato la nostra dose di veleno nella nostra mente ed è lì proprio che riemergono nei test della vita tutte queste cose. Ieri facciamo l'esempio di salite, ma le salite è come un test dove si evidenzia quanto funziona il tuo motore, fino a che non sali non c'è problema, non c'è bisogno di motore diciamo, ma le salite, i test, sono qualche cosa che ci serve a evidenziare. Ecco perché tante volte noi ce la prendiamo con le prove, ce la prendiamo con le difficoltà, ma in realtà i test, le prove sono l'unico modo per vedere se abbiamo veramente imparato. Nessuno di noi, io mi ricordo, per me era drammatico quando dovevo fare un esame, prima alle scuole elementari, poi alle medie, poi sempre di più al liceo, poi all'università, alla specializzazione, arrivavo proprio in uno stato di angoscia tremenda per la paura di essere giudicato, per tante cose, però in realtà, anche se poi magari l'esame, nella fattispecie, non era sempre in grado di valutare la preparazione, ma l'esame era lì proprio per mostrare se c'era stata una vera preparazione. Perché io avrei potuto benissimo pensare di essere arrivato all'università senza invece avere neanche fatto gli esami di elementare e tante volte come credenti abbiamo l'idea di arrivare, non so, ai vertici spirituali, però poi magari ci sono esami di scuole elementari che ci trovano completamente impreparati. Allora i test sono qualche cosa che in qualche modo evidenzia questo e la gioia delle prove, la gioia dei test è quella di superarle, non quella di essere bocciati. Non credo che nessuno possa essere gioioso. Allora la gioia è questa, che mentre viene il test noi scopriamo questa potenzialità che Dio ci ha dato di superarlo e poi man mano che cresciamo supereremo testi più grandi e Dio non permetterà mai che siamo testati al di sopra delle nostre possibilità. Ecco per cui nessuno di voi dica, ah ma le prove come ce l'ho io non ce le ha nessuno. Mi dispiace, ognuno di noi ha le sue prove e Dio garantisce che siano commisurate alla nostra misura di fede. Quindi ognuno di noi ha le sue prove ed è importante imparare a superarle perché nel momento in cui impariamo riusciremo a stimolare altri che poi si trovano nelle stesse prove, riusciremo a dire loro e questo è fondamentale anche nel rapporto genitoriale perché tante volte i genitori è come se non sono stati mai adolescenti o perlomeno non hanno mai visto cosa significa essere adolescenti e allora non possono tante volte avere un counseling dei loro figli, dare dei consigli reali perché o non lo sono stati o non ricordano neanche cosa significa essere adolescenti. Ma questo lo vedremo più avanti, nella parte più pratica. Ma dicevo che ai test della vita è in Giacomo 1, 2 e 4, lo vediamo ancora, leggiamo un po' di scrittura questa mattina. Era proprio quello che avevo appena citato, lo leggiamo assieme perché così ci resta ancora più impresso. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, ma è un po' masochista, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia appieno l'opera sua in voi affinché siate perfetti e completi di nulla mancanti. E allora è chiaro questo concetto della prova? La prova viene lì a valutare la tua effettiva fede. Cioè come a dire, se tu stai resistendo secondo dei metri umani, la prova, la tentazione arriva lì e troverà chiaramente una persona che non la supera. Cioè tu magari cercherai di avere pazienza, però poi scoppierai. Cioè cercherai di non amareggiarti, invece poi ti avvelenerai e questo veleno, prima di smaltirlo, passeranno mesi e mesi. Ma se realmente, già attraverso la tua fede, hai cominciato a sviluppare questa dimensione meravigliosa che Dio ha messo in te, allora viene la prova. Non sto dicendo che durante la prova si è allegri. Quando si fa un esame non si è allegri, si è allegri perché si supera. Nel momento in cui si è provati è chiaro che c'è un certo stress, una certa tensione, però la bellezza è questa. Quando questo dardo infuocato del maligno, questa prova, questa tentazione, trova uno scudo di una fede che riesca a fermarlo e a non fare sì che questo dardo poi infuochi tutto. Certo, brucia un poco, questo sì, però non mette a fuoco tutto. E allora questo scudo di fede diventa uno scudo sempre più forte. Il discorso, vedete, purtroppo tante volte non comprendiamo certe cose, allora diciamo ho fede o non ho fede, ma non è che ho fede o non ho fede, la fede è qualcosa che cresce, si sviluppa, si fortifica, non è qualcosa che si ha o non si ha, non solo, ma la fede è pure qualcosa che si può avere più in determinate aree e meno in altre aree. Per esempio, io è probabile che per la mia formazione medica, organifistica, io ho molte più difficoltà a credere in una guarigione fisica. Per me è difficilissimo, perché conoscendo bene il corpo, conoscendo i processi, magari mi viene più difficile. Questa è un'area delle promesse cristiane che per me è stata più difficile. E anzi, magari quando succedero delle guarigioni, io andavo sempre lì e dicevo, no, non è possibile, guardo, vediamo, controllo. Perfino quando ero guarito io non ci potevo credere, quindi immaginate proprio la fede al contrario, cioè il rifiuto di poter accettare neanche la incredulità di Tommaso, perché quella era un'incredulità positiva, che tante volte critichiamo tanto il povero Tommaso, ma il povero Tommaso non è che non voleva credere, non poteva credere, come dire, sarebbe troppo bello se fosse vero, ma non ci riesco a crederlo. Vorrei essere aiutato a credere, ma il mio atteggiamento invece proprio non è possibile, non voglio crederci. E questo è un atteggiamento tante volte di orgoglio, senza dubbio, quello che ci fa sentire più capaci di capire di Dio, di quello che Dio dice. E quindi perché? Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, è chiaro, perché nel momento in cui cominciamo a superare i test, cominciamo anche a essere incoraggiati e cominciamo a divenire più costanti. Voi vedrete benissimo che se una persona nel suo iter scolastico comincia a essere bocciata una prima volta, poi si riprende a studiare, ma poi smette di nuovo, mentre il fatto di cominciare a superare, anche per un pego, un esame, è come se crea una costanza, crea una sicurezza di poter superare gli ostacoli. Ognuno con i suoi tempi, ma questa certezza è importante. La prova della fede produce una costanza e la costanza cosa fa? Compie l'opera sua in noi, proprio perché ci fa continuare a credere e quindi a crescere, ci fa continuare a superare test e quindi a maturare spiritualmente. Ecco perché è importante, ecco perché la costanza è un atteggiamento fondamentale, perché è come uno che comincia un corso, però poi non si ferma all'inizio, lo continua, avanti, lo continua, lo continua, fino ad arrivare a cose sempre più difficili. E poi magari quando un altro fratello lo incontra, dice, ma come fai a sopportare cose del genere? Ma certamente non ci sono arrivati in un giorno, ma una fede crescente e costante ci porta a portare pesi sempre più grandi, a poter esprimere sempre di più pace e amore e quindi avere test più difficili, che magari altri non possono fare perché ancora sono a un livello di crescita inferiore. Ma anche in questo è bello non giudicarsi e questo lo vedremo anche dopo. Dicevo quindi, è molto importante comprendere che la mente a un certo punto poi riemerge nei test della vita e evidenzia tutti questi lati negativi, tutte queste tendenze, tutti questi atteggiamenti che hanno bisogno di essere rinnovati. Quindi comprendiamo come sia necessaria una salvezza dell'anima. Quindi stiamo attenti quando parliamo di salvezza dell'anima, non stiamo parlando più della salvezza del nostro spirito, ma di una salvezza che non solo ha raggiunto il nostro spirito, perché la parola salvezza è un termine abbastanza vasto come comprensione. Figuratevi che veniva usato pure nel senso di guarigione fisica nella scrittura. Donna, la tua fede ti ha salvato, ti ha sanato. Spesso sono analoghi questi termini, per cui la salvezza è un processo che inizia dal nostro spirito e lì è una salvezza istantanea, continua con la nostra mente e questa continuerà tutta la vita, perché tutta la nostra mente gradualmente viene permeata, viene trasformata, viene salvata e può estendersi anche a una guarigione fisica, a una salvezza del corpo che però, ricordatevi come abbiamo detto negli scorsi giorni, sarà solamente reale quando riceveremo un nuovo corpo. Per ora ci dobbiamo accontentare di questo. Infatti ci sono tante parti della scrittura, le continuiamo a prendere solamente alcune che ci fanno vedere questo discorso. In Primo Pietro, velocemente, Primo Pietro 1,22, le potrei citare ma è bene che le prendiamo. Dice così, Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amore non finto, amatevi l'un l'altro intensamente. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. Stava scrivendo a dei credenti, ma sta parlando di una purificazione dell'anima, cioè della psiche e della mente. Un credente è una persona nuova di dentro, ma una persona che ha bisogno di essere purificata, o se volete santificata, o rinnovata, o guarita. Non ha importanza, ma ha bisogno di cambiare la testa, in poche parole, i suoi atteggiamenti negativi. Ed è molto bello qua come usa un concetto che potrebbe farci distorcere, potrebbe sembrare in antitesi a quello che abbiamo detto fino ad ora, con l'ubbidienza alla verità. Ma qual è questa verità? È una verità teorica? È una verità esterna? No, ancora una volta, Gesù intanto disse, io sono la verità alla vita, e la verità è proprio l'opera di Cristo in noi, cioè entriamo in un concetto rivoluzionario, cioè che l'obbedienza non è più l'obbedienza a una legge esterna, ma diventa l'obbedienza a una inclinazione del tuo spirito, del tuo cuore, cioè tu obbedisci a quello che è la tua natura, detto in parole più semplici, obbedisci all'amore che c'è in te. Quando crescendo nella fede si esprimerà più amore, quando crescendo nella fede si esprimerà più pace, tu sei nelle condizioni poi di obbedire a questa pace o non obbedire. Non mi preoccupate, ora ripeto il concetto. Cioè, la libertà vera non è quella che si ha quando si è schiavi, non so se il concetto è chiaro. Detto in altri termini, facendo un esempio magari di un'abitudine che ancora magari in qualcuno rimane, così comune, che magari è tanto indirizzata come... Per esempio, libero di fumare non è chi fuma, ma chi non fuma. Facendo questo esempio, se ne potrebbero fare tanti altri, ma libero di obbedire nell'ottica del nuovo patto non è chi solamente si mette di fronte alla legge e dice io voglio obbedire. Tu non sei libero se stai ancora avendo un rapporto con la legge come qualcosa di esterno e allora la legge ti dice ama e tu ti dici ma che faccio? Amo o non amo? Guarda, qualunque cosa fai non ci riesci lo stesso ad amare, quindi è inutile che dici cosa faccio, perché se dici amo ti viene lucera lo stesso, quindi a un certo punto qualunque cosa dici di fronte a una legge esterna è un'obbedienza sempre teorica. È ovvio che magari tante volte è meglio pagare le conseguenze di noi, è chiaro che non per questo allora significa siccome non riesco ad amarti veramente allora ti piglio a legnate perché non ho raggiunto ancora quell'autocontrollo spirituale, non significa questo, però voglio dirvi che l'obbedienza vera si può avere quando realmente scopriamo l'opera di Dio in noi, allora lì, quando crediamo in questa potenza di amore, quando cominciamo ad avvertire attraverso lo Spirito Santo che ci illumina questo, non è l'argomento del giorno però è bene sottolinearlo, quando cominciamo a scoprire questo, proprio a quel punto poi siamo liberi, quando sentiamo quell'amore, quando cominciamo a percepirlo, siamo liberi di dire aderisco o non aderisco. Ricordate l'esempio che facciamo di rendere prigioni, prigionieri pensieri buoni? Tante volte facciamo così, appena lo Spirito Santo, la nostra fede, porta fuori quest'amore, questa pace, noi diciamo che fa, obbedisco? No, aspetto un po', così mi passa. In realtà poi magari finiamo per obbedire invece ai pensieri della carne, ai pensieri distruttivi. Ma è molto bello obbedire alla verità man mano che questa si va rivelando dentro di noi. Allora è molto bello, la pace dentro di te comincia a venire, tu poi sei di fronte a un test dove vieni stimolato, in quel momento sei libero o di obbedire alla pace e superare il test oppure di reagire secondo le spinte carnali ed essere bocciato. Dico bocciato in quel momento, poi c'è sempre il recupero, ma tutta la nostra vita è un po' un test di questo genere dove noi siamo messi in condizioni di libertà. Ma di libertà quando però stiamo scoprendo queste cose, ripeto, perché se è solamente una legge esterna, qualunque cosa decidiamo siamo sempre fregati, quindi è inutile. Ma se cominciamo a scoprire questa verità di Cristo e noi, della sua opera, possiamo cominciare a obbedire, avere la libertà meravigliosa di obbedire e a vedere i frutti meravigliosi di questi esami che vengono superati e andiamo avanti. Anche in Giacomo c'è un accenno di questo genere, lo riprendiamo un attimo. Giacomo al capitolo 1, verso 21, dice ancora così Perciò deposta ogni sporcizia e ogni rimanenza di malizia. Io la Luzzi la traduco un po' in italiano, non perché non sia in italiano, perché è un italiano un po' carcaico, anche se mi piace perché è molto attinente al testo originale greco. Perciò deposta ogni sporcizia e rimanenza di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Cioè ancora una volta troviamo questo concetto del deporre qualche cosa, le armi negative, ricordate all'inizio dei primi studi, e poi ricevere la parola perché dice che è stata piantata in noi. Qualcuno di voi si trova in una Bibbia incorporata trapiantata nello stomaco, no? No. Ma la parola di Dio, che è verità, Cristo stesso, le sue leggi sono state trapiantate nel nostro cuore. Abbiamo ricevuto uno spirito nuovo, un cuore nuovo. Per Paolo è un sinonimo, spirito o cuore, le usa indifferentemente. abbiamo ricevuto una parola, uno spirito nuovo, una Bibbia scritta dentro i nostri cuori e lo Spirito Santo ci vuole però portare a riceverla. Cioè l'abbiamo ricevuta, è stata piantata in noi, ma abbiamo bisogno di riceverla. Vedete, le cose di Dio sono sempre apparentemente contraddittorie. Siamo santi, ma dobbiamo santificarci. Siamo salvati, ma dobbiamo perseverare nella salvezza. Siamo redenti, ma aspettiamo la redenzione. C'è come dire, c'è una parte che avviene ad opera di Dio esclusiva, la sua opera, e c'è la nostra collaborazione alla grazia di Dio. C'è il suo dono, ma c'è la nostra fede che poi lo va scoprendo e lo va rendendo, lo va portando nella dimensione reale, visibile, tangibile. Ecco, questo non dimenticatelo mai, perché spesso noi esagereremo o diremo fai tutto tu, Signore, o facciamo tutto noi. Allora in tutte e due le cose rischiamo veramente di prendere le grosse cantonate, ma siamo chiamati a essere collaboratori della grazia di Dio. Dicevo quindi, qui è molto chiaro, ricevere con mansuetudine, la parola che è stata piantata in noi, cioè ricevere, scoprire, rendersi conto di queste realtà interiori. Perché questo? Perché possa salvare le anime nostre. Ecco, ripetiamo il concetto. Ma come? Se siamo già salvati? Sì, siamo salvati spiritualmente parlando, siamo nuove creature, ma le nostre anime hanno bisogno di questa salvezza. Ecco perché l'Apostolo poteva scrivere, l'Apostolo Giacomo, scrivere così. E quindi tutto questo è intesa quindi come una trasformazione attraverso il rinnovamento della mente. Ricordate Romani 12, verso 2, siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. Non si può conoscere la volontà di Dio in un'altra maniera. Io mi ricordo prima, dicevo, «Signore, qual è la tua volontà? Dove devo andare? A destra o a sinistra?» Il Signore non mi rispondeva, perché io magari pensavo che dovevo andare a destra, poi combinavo un sacco di guai, e diceva «Signore, ma come sono andato a destra?» Forse devo andare a sinistra. Andavo a sinistra la stessa cosa, un sacco di guai. Forse devo andare al centro, un sacco di guai. Pensavo che la volontà di Dio fosse qualche cosa da fare, qualche cosa da raggiungere, un posto, un luogo, una chiesa da frequentare al posto di un'altra, senza comprendere che la volontà di Dio era proprio un modo di essere. Quindi, se io non avessi rinnovato la mia mente, qualunque cosa facevo, sbagliavo lo stesso, dovunque mi trovavo, sarei stato lo stesso. Nessuno avrebbe potuto cambiarmi dall'esterno, a meno che io non scoprivo questo cambiamento meraviglioso che Dio aveva messo in me e che là dove era scoperto poteva portare frutto da qualunque parte. Mentre prima in qualunque parte era non portava nessun frutto, perché ancora la mia mente era dominata sempre da amarezza e rabbia, da giudizi, critiche, eccetera, eccetera, senza che io comprendessi questo bisogno di essere guarito, rinnovato a livello mentale e quindi senza che io facessi un'esperienza reale di Dio. Eppure potevo fare esperienza di carismi, potevo fare esperienza anche di guarigioni, facevo esperienza di doni spirituali, facevo esperienza anche di persone che attraverso la mia predicazione magari si convertivano, però io rimanevo sempre depresso, distrutto, sempre in crisi, perché? Perché l'esperienza reale della volontà di Dio ha a che fare, come ci ricorda Paolo nei Romani 12, con una trasformazione attraverso il rinnovamento della nostra mente. Senza questa trasformazione noi non potremmo conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio, la perfetta, la santa, la accettevole, la permissiva, qualcuno traduce, volontà di Dio. Allora questa trasformazione come è attuata, come è perseguita, l'abbiamo già accennato, attraverso lo spogliamento di vecchie attitudini determinate dall'azione della carne sulla mente e il rivestimento per fede della nuova identità che abbiamo ricevuto da Dio. Leggiamo un versetto ancora a riguardo in Efesini molto bello questo verso capitolo 4 capitolo 4 verso 22 avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. questa è la parte di spogliarsi di deporre di abbandonare gradualmente qualche cosa che fa parte di quell'arsenale distruttivo di cui parlavamo all'inizio ed ad essere rinnovati nello spirito della vostra mente ho detto in altri termini in quello che la mente va riflettendo del vostro spirito e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità e a rivestire l'uomo nuovo ma dove li andiamo a trovare i vestiti di quest'uomo nuovo? il guardarobbo è qui e questo è la cosa meravigliosa questo è il miracolo della grazia cioè che Dio ci ha dato un guardaroba meravigliosa di un uomo nuovo di uomini nuovi dove ci sono i vestiti più belli di pace di gioia di amore vestiti un po' fuori moda oggi perché se ne usano altri ma dove realmente lo spirito santo ci vuole accompagnare per trovare questi vestiti cioè se no non ci rivestiamo di niente e allora il processo di rinnovamento mentale è un processo di spogliamento progressivo di atteggiamenti determinati dall'influsso della carne ricordate che la carne fino all'ultimo cercherà di dettare legge nella nostra vita ma gradualmente se ci rinnoviamo noi abbandoniamo questi atteggiamenti queste aderenze che ci sono tra la mente e la carne quindi sciogliamo la nostra mente dai legami della carne e la uniformiamo e la trasformiamo prendendo questi vestiti nuovi attraverso la fede dal nostro cuore dal nostro spirito da questa identità meravigliosa e perfetta che in Cristo ci è stata donata avete imparato a rivestire quindi l'uomo nuovo che è creato creato questo già ci parla che non può essere qualche cosa di umano perché l'uomo non può creare solamente Dio può creare noi possiamo inventare possiamo mettere un sacco di elementi chimici assieme fare esplosivi o altre genere di esperimenti di vario genere ma non possiamo creare ma l'uomo nuovo fratelli è creato da Dio dentro di voi dentro di noi c'è una creazione c'è qualche cosa come diciamo all'inizio che è esclusivamente di fattura celeste nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità mi piace questa specificazione dell'Apostolo Paolo cioè questo uomo nuovo è creato nella giustizia e nella santità non che procede da qualcun altro se non da Gesù perché Cristo è la verità la verità è Cristo e allora questa giustizia è questa santità ci è stata donata sapete tutti da Cristo abbiamo un'immagine nuova abbiamo un'identità nuova che è creata a immagine di Cristo lui primogenito di tanti fratelli dentro di noi c'è la natura di Cristo e questa non è una cosa di orgoglio perché è un dono nessuno di noi l'ha potuta meritare ma l'abbiamo ricevuta e ora Dio ci chiede di scoprirla per essere rinnovati e quindi in questo modo comprendiamo tutti questo diventa una cosa molto ovvia che la santificazione che è un dono di Dio o la santità come la volete chiamare di questa nuova natura sapete cosa significa santo? separato appartato messo a parte per Dio allora il nostro spirito è messo a parte per Dio il nostro spirito è un territorio meraviglioso dove il diavolo non ha nessun diritto di entrare però dice si rifà nella nostra mente purtroppo o nel nostro corpo ma nel nostro spirito è un territorio santo santo dove nessuno nessuna forza delle tenebre può penetrare dove niente e nessuno può turbare c'è un equilibrio c'è un'emostasi perfetta nel nostro spirito che non può essere turbata da niente è un dono di Dio però questo dono abbiamo detto che ha bisogno della nostra collaborazione perché possa diventare un frutto cioè come a dire un albero alla radice della vita alla linfa interna ci sono tutti i processi di fotosintesi di quello che volete ma se quest'albero questa vitalità non lo esprime all'esterno non viene fuori nessun frutto ed è lo stesso per un credente un credente viene riempito gratuitamente di questa natura meravigliosa di Dio viene riempito di questa santità dono di Dio mi dispiace per te sei un santo perdono di Dio e secondo la tua fede la santità comincerà a crescere magari raggiungendo livelli diversi in ognuno di noi non certo al livello magari di alcuni che hanno avuto una santità estrema che hanno vissuto la Giovanni Battista nessuno di noi forse andrà nel deserto a vivere o che ne so che cosa ma ognuno di noi ha ricevuto una natura santa meravigliosa e questa santità può diventare un frutto e questo spiega come mai poi Dio possa darcela come un ordine e leggiamo i due versi dove questo è espresso prima in prima Corinzi va bene dice che Cristo ci è stato fatto anche santificazione va bene questo non lo leggiamo leggiamo invece un attimo Romani 6.22 che parla di questi frutti meravigliosi dice in questa maniera ma ora essendo stati affrancati liberati dal peccato e fatti servi di Dio voi avete per frutto la vostra santificazione cioè la santificazione diventa un frutto però quando quando l'albero è stato piantato veramente da Dio quando abbiamo le radici che pescano nella santità che Dio ci ha donato gratuitamente allora lì pescando le radici nella santità cosa faremo? frutti di santità pescando le nostre radici nella pace cosa verrà fuori dalla nostra vita? frutti di pace e come dicevo l'altro ieri non ci sarà bisogno di dire ma un momento ma questo è un atto di pace se faccio questo nei confronti del mio fratello? no perché nel momento in cui tu stai pescando nella nella pace che Dio ha messo nella tua nuova identità viene fuori un frutto di pace in qualunque modo lo esprimi sarà un frutto di pace sarà un frutto di gioia un frutto di amore perché le radici stanno pescando nella santità della tua nuova natura che lo Spirito Santo sta illuminando e questa è l'opera dello Spirito Santo che tu stai credendo perché lo Spirito Santo potrebbe illuminarti questa realtà però tu guardarle e dire sì è bello ma chissà se poi è vero no la nostra adesione è proprio credere professare confessare questa realtà affermarla crederla nel momento in cui la parola di Dio ce l'attesta lo Spirito Santo ce la mostra perché lui ci è stato dato per mostrarci le cose che Dio ci ha donato e noi ma è troppo semplice a noi ci resta solamente da credere sembra semplice in realtà è semplice però non siamo abituati a camminare per fede in quello che non vediamo camminiamo per fede purtroppo in tante altre cose che hanno così condizionato la nostra vita ma fede nelle realtà che non si vedono è qualche cosa che si può sviluppare miracolosamente ma che si può sviluppare e che ci può portare a camminare come qualcuno che guarda l'invisibile dice la scrittura Mosè rimase costante come guardando colui che è invisibile Mosè guardava ma cosa guardava guardava sulle nuvole no cosa significa guardare l'invisibile camminare così e sbattere contro tutti gli alberi che incontri camminare in maniera mistica stratta no ma significa guardando le promesse di Dio guardando le realtà spirituali perché nel mentre che le guardi nel mentre che le contempli magari ti succederà pure di crederle e quando le credi vengono alla luce e venendo alla luce diventano frutti e i frutti li mangi tu e li mangiano gli altri di pace di gioia di amore ecco perché il frutto ha bisogno della radice che pesca nell'opera di Dio ed ecco perché in primo Pietro Dio ci può dire siate santi ma detto in altre parole è come se Dio ci dicesse credete ed esprimete la santità che io ho messo in voi è diverso il concetto Dio non ci sta chiedendo qualcosa di impossibile siate santi mamma mia cosa devo fare mi devo arrampicare lungo i muri devo strisciare a terra devo annichilirmi devo ci sono tante volte tanti gruppi che cercano di ottenere questo attraverso delle specie di privazioni o di mortificazioni ora è il momento per esempio in cui tutte le cose che più ami devi lasciare allora qualcuno lascia la moglie perché è scritto così c'è come dell'applicazione di una legge ma non è questo non possiamo imporci una santità esterna la santità è la scoperta è l'espressione poi di quello che Dio ha fatto in noi e allora lì più scopriamo questa sostanza migliore e permanente più accetteremo con allegrezza anche la privazione eventualmente dei nostri beni anche se non è detto perché tante volte si è enfatizzato su un concetto di cristianesimo che deve essere per forza povero ma non è detto cioè Dio ci ha considerato amministratori e quindi se ci provvede è possibile che ci provvede per essere a nostra volta benefattori quindi non non si può esaltare la povertà rispetto alla ricchezza il problema è il fatto è il pericolo non è il denaro ci ricorderà l'apostolo Palo ma è l'amore per il denaro è diverso il concetto il denaro può essere una grande benedizione che Dio usa per chi ce l'ha nei confronti di se stessi e degli altri ma il denaro può diventare pure una trappola là dove diventa un idolo dove diventa realmente qualche cosa fine a se stessa allora lì può realmente allontanarci dal comprendere che la cosa più importante è la realtà di Cristo nella nostra vita quindi comprendiamo che credere esprimere la santità che Dio ha messo in noi questo significa essere santi e possiamo così affermare con l'apostolo Paolo ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana ricordate questo brano anzi ho faticato più di loro tutti poi si ferma un attimo nella scrittura non ci ha messo e dice aspetta io non già io ogni tanto ma la grazia di Dio che è con me come a dire per la grazia lui dice io sono quello che sono cioè Dio mi ha graziato mi ha dato questo tesoro meraviglioso però aggiunge subito dopo questo suo dono non è stato vano come a dire io mi sono preso il tesoro e poi l'ho ignorato come a dire ricco ma ho vissuto da miserabile no ma questa sua grazia questo tesoro che lui mi ha dato non è stato dato in vano tanto è vero cosa dice poi anzi ho faticato più di loro tutti dice in un primo tempo ma subito dopo completa non è che diceva non vogliamo dire che lo sta dicendo per orgoglio ma è un completamento tante volte la scrittura dice qualche cosa e poi la rispiega in una maniera più ampia più precisa e specifica non già io perché se noi non avessimo letto cioè la parte che segue non già io però la grazia di Dio che è con me avremmo potuto pensare dice la grazia di Dio sua verso di me non è stata vana anzi ho faticato più di loro tutti giusto Paolo ha faticato di più quindi più faticava più grazia realizzava più si impegnava e più realizzava la grazia se non ci fosse stato il verso successivo saremmo tutti arrivati a pensare allora più io mi sforzo e più grazia realizzo saremmo caduti nuovamente in quella trappola ma qui vediamo un altro concetto non già io ma la grazia di Dio che è con me cioè Paolo si poteva affaticare di più perché realizzava più grazia non so se capite l'enorme differenza cioè più poteva scoprire l'amore di Dio più poteva dare questo amore più poteva scoprire la gioia di Dio più poteva rallegrarsi più poteva scoprire la gratificazione che gli dava la presenza di Dio più poteva essere disinteressato a un certo punto se dormiva in un letto comodo in un letto scomodo o altre cose del genere certamente si aveva la possibilità di scegliere non credo che si andava a scegliere il letto scomodo proprio per principio no assolutamente però lo scoprire questa grazia progressivamente lo aveva portato infatti a spendere ad essere speso per le vite degli altri quindi un concetto che forse per alcuni di noi è strano la grazia fatica non la fatica porta la grazia stiamo attenti ma la grazia porta l'impegno ecco perché molti pensano la grazia significa ah Dio ha fatto tutto vuol dire troppo comodo no anzi la grazia è molto più responsabilizzante perché quando tu scopri queste potenzialità dentro tu cominci ad accogerti che queste potenzialità vengono fuori e ti portano ad amare ti portano a sopportare senza più che ti fai un elenco di diritti e doveri aspetta fino a dove lo devo sopportare cioè non c'è un tuo limite il limite è la misura della grazia che hai realizzato certo non lo puoi sopportare di più perché sennò vai in esaurimento nervoso ma neanche di meno c'è un limite giusto che è il limite della tua fede e quel limite ti permette di portare di sopportare le situazioni e di superarle gradualmente secondo la misura della tua fede e quindi come collaboratori di Dio e qua andiamo proprio al solo che ci fermiamo lo introduciamo semplicemente lo leggerò poi lo riprenderemo come collaboratori di Dio siamo non solo chiamati a stare saldi nella grazia e vedremo poi il versetto a perseverare nella grazia a cooperare con la grazia a crescere nella grazia a condurci con grazia vedremo tutte queste cose perché uno dice grazia e sembra che già è escluso ha finito tutto il concetto grazie va bene però ora cosa dobbiamo fare no tutto sta veramente nella scoperta di questo scoprendo questo scopriamo come realmente vivere le nostre relazioni con noi stessi primo perché molti tante volte finiscono per essere litigati con se stessi finiscono per maledirsi quante volte ti sei maledetto in quest'ultimo mese o hai detto male di te stesso senza ricordarti che il vero te stesso è un essere meraviglioso quindi hai detto male di te stesso in toto cioè che puoi avere detto male di certi atteggiamenti questo è buono che ti sei reso conto di certe cose che non vanno questo è positivo ma che in tutto questo ti sei dimenticato di essere un essere nuovo meraviglioso questo significa dire male di quello che Dio ha fatto in noi quindi tutto questo comporta una riappacificazione con se stessi tante volte non siamo in pace con noi stessi non possiamo esserlo con gli altri non stiamo vivendo una buona relazione con noi stessi tanto o meno la possiamo vivere con gli altri e poi significa poter anche entrare in un rapporto nell'ambito familiare nell'ambito di gruppo e così via quindi crescere condurci ma anche diventarne tutti quanti e particolarmente chi si occupa di cura d'animo chi ha una responsabilità o chi è genitore diventare dispensatore o qualcuno che conferisce grazia o che stimola la fede ma questo lo vedremo più in là ok se c'è qualche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti